Passiamo alla palla a volo, è in parità la serie della semifinale scudetto tra la Sir, Conad, Perugia e Modena e lunedì pomeriggio si torna al Palabarton per gara 3. Allora nel servizio di Antonello Brughini sentiamo anche l'analisi del match di ieri di Massimo Colaci. Abbiamo sprecato, eravamo spesso in vantaggio nel secondo terzo set, poi abbiamo sprecato due o tre palle di fila, naturalmente qui a Modena non te lo puoi permettere. E' mancato qualcosa sul piano nervoso, è mancato qualcosa soprattutto in ricezione e stavolta la differenza l'ha fatta un campione che Perugia e i perugini conoscono bene, Ivan Zaitsev, autore di 31 punti. Da solo, o quasi, lo zar ha costretto alla resa i suoi ex compagni di squadra. Modena canta al Palapanini e così a Pasquetta si ripartirà dall'1-1 nella serie della semifinale scudetto. Ha giocato a corrente alternata la squadra allenata da Lorenzo Bernardi, ma del resto una minima flessione ci può stare. Chi pensava ad un 3-0, pensa forse che questo sia il torneo della parrocchia, insomma, questi sono i play-off del campionato italiano contro Modena, Modena, non è facile vincere qui. E quindi sì, si gioca subito, calendario fittissimo, vale per tutti. Ancora 48 ore quindi per caricarsi, concentrarsi e soprattutto per studiare le mosse, per travolgere gli eterni rivali di Modena.